VPC LOL, salam alaikum, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di PES 2018, stagioni e due, sono sempre io, Valtre Alcaz, il fondatore di VPC LOL. Eccoci arrivati alla prossima giornata, purtroppo nell'ultima volta siamo stati eliminati dal Milan in Coppa Italia e purtroppo l'obiettivo triplet sfuma e dobbiamo incassare questa sconfitta. Ora ci resta solo il campionato e l'Europa League. E alla prossima giocheremo contro il Bari, dove ancora non abbiamo mai vinto. E vabbè raga, andiamo avanti. Allora vabbè, Navizarra verrà e giocherà al posto di Navizarra. Anzi no, giochiamo questa squadra. Tanto, è la squadra titolare. Va bene. Caccia di inizio. Speriamo che non un lag. E vabbè. Benvenuti dal Blackfux Away Stadium, VPC LOL City, VPC LOL contro Bari. VPC LOL in completo nero fux e il Bari in completo bianco. VPC LOL e quelli del Bari, venuti da Bari. VPC LOL schiera la formazione titolare che è rimasta a riposo durante queste sfide. con solo Fiamozzi. Il Bari schiera la formazione medesima. Un 5-3-2. Una squadra molto difensiva. Ecco il guardato Samuele De Santis, portiere titolare e si inizia. Il VPC LOL si riparte. Palla per Vittorio. Vittorio la dà per San Vito, Norese, Alcarsana, Spettro. Sbaglia però il passaggio per Zahara. Palla per il Bari. Il VPC LOL deve dimenticare subito l'eliminazione e deve scuotersi. Daniel Spettro. La dà per Alcarsana, no? Alcarsana. Palla per Alplasma non ci arriva però. Viene anticipato di Tonucci. Allora si riparte. Viglianti. Rope non riesce a tenere il pallone. Palla per Bash. Pallone per Improta. Attenzione. Però Norese gli chiude la strada. Palla per Vittorio. Alcarsana. Spettro. Mezzo alla linea difensiva. Deve temporeggiare. Palla per Alplasma. Vediamo se... Alplasma. La dà indietro per Fiamozzi. Cross di Fiamozzi. Attenzione. Dall'aspetto non ci arriva. E si perde. Però buona... Buona iniziativa del VPC LOL. Ora il Bari prova a farsi vedere. Ora è una fase di studio più, diciamo. Vittorio. Spettro. Palla per Alcarsana che... Si vede i difensori. Alcarsana. Nicodemo. Palla per Spettro. Daniel. Spettro. 1-0. Il VPC LOL va avanti al primo affondo. Esplode tutta VPC LOL City. Ed è il numero... Goal numero 23 per Daniel Spettro. Grande azione. E lì non può sbagliare. E si riparte. 1-0 per il VPC LOL che va avanti al quindicesimo minuto. Vediamo la lezione del Bari. Lascia scorrere. Palla per San Vito. Però sbaglio il passaggio. Ora... Errore. Allora non rese. Ma... Ora gli errori un po' di centrocampo. Nicodemo. Palla per Alplasma. Tiene il pallone. Palla per Spettro. Attenzione. Ma la palla è un po' lunga. Non ci può arrivare. Il giocatore di Caserta. Nelle Spettro non era altro che... Io e lui eravamo... Diciamo che siamo stati amici... Dal 2012. Dove... Ci siamo praticamente... Siamo stati... Dei ribelli. Contro chi ci voleva apprimere. Ma vi spiegheremo in un altro modo. Comunque Nicodemo. Vittorio. Zahara. Sì, lui in verità non si chiamava Spettro. Ho cambiato nome e cognome. Sanvito. Ancora per Spettro. Ma la palla è lunga. Vittorio. Alcarsana. Ma la palla non la passa. Allora... Si riparte. Norese. Sbaglia per... E allora? Ma sbaglia anche il Bari. Zahara. Spettro. Parà Alcarsana. Ma la palla... Non è abbast... Un po' troppo corta. Allora il Bari tiene molto la palla. Il WPC LOL si sta un po'... Attenzione. Nicodemo. Palla per Spettro. Se ne libera. Si libera del secondo giocatore. Si è alla lunga ma... Un po' sbagliatamente. Infatti la perde. Palla per Floro Flores. Ma viene anticipato Vittorio. Vittorio per Daniele Spettro. Si libera del giocatore. Attenzione a Daniele Spettro. Parte il tiro! Alta di un niente. Bella iniziativa di Spettro. Che riesce comunque... Si è liberato del giocatore. È passato del mezzo... È attirato. Ma la palla si alza. Però bella occasione del... La palla si riparte. San Vito. Alcarsana. Ancora palla per Spettro. Vediamo se ci arriva. Spettro! Si è... Parte il tiro. Deviato. E c'è calcio d'angolo. Però Spettro oggi è in buona... Ottima forma. Lo scorso ora in serbifini 2-2. Tra VPC LoL e il Bari. Ma sono due scade che comunque si rispettano. Vigliante. Attenzione. Zahara di testa! Una spinta del portiere che dice di no! Attenzione Spettro! Ero non riesce ad arrivare sulla ribattuta. E il Bari si salva. Siamo verso il quarantesimo minuto del primo tempo. 1-0 per il VPC LoL. Il quindicesimo minuto. Spettro. Il VPC LoL ha avuto altre due occasioni da gol. Il Bari per ora non si è fatto vedere in occasioni proprio pericolose. Viglianti. Al Plasma. Spettro. Palla per Alcarsana! Alcarsana! XOR! Alcarsana! 2-0! Segna anche il giocatore Italo-Irakeno. Ed è 2-0. Grande assist di Spettro che sembrava in fuorigioco. Invece... Tutto regolare. L'ha data... Cross perfetto. E lì non può sbagliare. È andato di potenza. Ed è 2-0. Meritato. Il Bari che comunque sta facendo una lotta per non retrocedere. Ed è 2-0. Il VPC LoL sta andando molto bene. Ora il Bari fa girare la palla. Ma deve... Scuotersi se vuole... Spera di riprilla. E non sembra che sta facendo tanto effetto. A Bari finì 4-4. Finì... C'è 2-0. Per lo tempo il VPC LoL è avanti. Ma vediamo se nel secondo tempo riuscirà a tenere. O se il Bari reagirà. Per ora ottimo VPC LoL. Ma un Bari che comunque ha fatto vedere qualcosa. Ma non è sufficiente per questo. Infatti non ha tirato mai verso lo specchio. Vabbè ci vediamo fra poco per il secondo tempo. Eccoci tornati per il secondo tempo. Ora fra poco inizieremo il secondo tempo. 2-0 per il VPC LoL. Opera di Spettro e... Alcarsana. Che però decide una partita. Il Bari deve... Fare di più. Se vuole spaventare questo VPC LoL. Palla per il Bari. Parola di attenzione. Perde Zahara. Zahara! Non riesce però a superare il difensore che gli porta via la palla. Allora il Bari riparte. Floro Flores. Ma San Vito lo chiude. Al Plasma. Spettro. Palla per Alcarsana. Però è più veloce il difensore. Attenzione Vittorio. Non passa. Zahara. Allora il Bari prova a vedere. Attenzione Vittorio. Però la palla è troppo lunga. E si perde sul fondo. Allora riparte. Il VPC LoL. E si è al fondo con De Santis. Palla per Spettro. Spettro per Fiamozzi. Zahara. Al Plasma. Però Spettro non è abbastanza lontano. Attenzione però. Vince il ripalo. Spettro. Parte il tiro. Daniel. Spettro. 3 a 0 del VPC LoL. Al 55esimo. E doppietta. E 24esima rete stagionale. E il record di gol in Serie A. È solo distante. Di tipo 12 gol. Una cosa del genere. Però oggi in ettima forma. Daniel Spettro. Dopo delle partite che non sono state proprio all'altezza. Si qui non è il suo re del Bari. Ma il Spettro non perdona. È stato pure eletto migliore giocatore. Poche partite fa. Ed è 3 a 0. Il VPC LoL va verso l'Ettori. Il Bari proprio inefficace. Attenzione. Ha un altro errore perso. Zahara. Palla per Spettro. 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 Egnel. Spettro. 4 a 0. Crolla proprio il Bari. Ed è. Altra pala persa. E qui non perdona. Tripletta di Spettro. Ed 25esimo gol stagionale. festeggia tutta WPC LoL City si brutta balaversa e lì non può sbagliare proprio crollo del Bari lo scorso anno finì 2-2 ma allora era una squadra ancora sperimentale quest'anno è una squadra che può lottare qualcosa di importante comunque 4-0 e partita ormai chiusa adesso il WPC LoL penserà solo a gestire pala per Viglianti Fiamozzi Alplasma Spettro Alcarsana Vittorio Spettro Alplasma Zahara prova a tirare ma viene murato allora il Bari prova a ripartire Alla San Vito chiude la strada Vittorio Mikodemo Aspetta ma non passa Viglianti Vittorio Antigione Spettro V4-0 per il WPC LoL Fiamozzi dice di no però non riesce a evitare la rimessa da laterale allora il Bari si fa torno a farsi vedere dopo il bleccato di 2 minuti che ha preso questi due gol in un minuto Zahara Alplasma allora la palla non viene non arriva per Spettro ancora Zahara che sta facendo comunque un'ottima partita Zahara Zahara però troppo ancora Zahara passa Zahara parte il tiro Zahara e questa volta il portiere dice di no grande prestazione anche di Navi Zahara questo centrocampista avanzato lui di origini proprio italiane Viglianti parla per Alplasma però il suo tiro è ribattuto Zahara vince il ripallo ma si deve liberare Zahara però non riesce allora il Bari allontana Nicodemo Spettro vale per Zahara però non viene non riesce a tirare Vittorio ancora Zahara Zahara viene ostacolato ma il Bari non riesce proprio a Alcarsana ma la palla è stata allontanata Nicodemo Zahara non riesce proprio a fare quel tiro poi il Bari prova a uscire Lorese Alcarsana però la palla è troppo sul portiere Vittorio allora la palla non passa per Alplasma ormai siamo nei minuti finali e il VBC LOL è una vittoria comunque che scaccia un po' i fantasmi dopo l'eliminazione in Coppa Italia sono Alcarsana Spettro Alplasma ultima cosa nel Bari ma non c'è più tempo il VBC LOL fa una grande vittoria di forza e abbatte un Bari un po' irriconoscibile Bari che non è mai riuscito a tirare verso la porta è un ottimo danno al Spettro vediamo cosa è successo il Milan pareggia con la Fiorentina quindi vuol dire che il VBC LOL si prende la vetta Inter contro Sassuolo vince la 0 la Juve perde a sorpresa in casa 0-2 col Genoa Spezia 0 Vittivo 2 Atalanta Bologna 2-2 Sondoria Udinese 2-0 Lazio Cagliari 2-0 Roma Spal 4-2 Napoli Torino 3-0 vediamo come cambia il VBC LOL quindi si riprende la vetta sfruttando il pareggio del Milan e si ha mentre la Lazio si avvicina e la prossima sarà contro lo Spezia proprio un'altra formazione probabilmente alla portata è ancora sempre i giocatori più giovani il livello ruolo è diventato tale vabbè sono te stronzate la spesa di media di quanto è gratto è come è deciso è diventato un giocatore irrinunciabile e beh Fiamozzi mi è sempre piaciuto a me gol partito nei primi minuti ha vinto il 25esimo gol va bene mi aspetti per il gol ad or no mi spiace ma San Vito non si sposta vabbè vabbè raga termino questo episodio continuiamo il prossimo sempre sul canale VPC LOL qui da Valtraccazza è tutto ci vediamo alla prossima vukum diciamo in arabo alaikum salam A presto a presto